raid di camorra poco dopo la mezzanotte nel bar napoli roma in via napoli roma verso scampia un commando di almeno tre persone ha fatto irruzione nel locale secondo le testimonianze raccolte dagli agenti delle volanti il gruppo aveva con sede le tanniche di benzina dopo aver minacciato i presenti con le pistole intimato loro di uscire alla svelta hanno cosparso il liquido infiammabile all'interno del bar appiccando subito il fuoco non appena sono divampate le fiamme sono scappati a bordo di un auto l'azione è stata fulminia secondo quanto è stato possibile accertare nel raid incendiario non ci sono stati per fortuna feriti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento scampia della centrale oltre che alle volanti della questura del commissariato di scampia per gli inquirenti il raid porta la firma della camorra dei gruppi criminali che gestiscono il traffico di stupefacenti e racchette delle estorsioni nella zona stupefacenti e rapp